Capita a volte di incontrare delle persone per noi assolutamente strane, alle quali ci interessiamo fin dal primo sguardo, all'improvviso in maniera inaspettata, prima che una sola parola venga pronunciata. Questa è la storia di come mi sia riuscito di tramutare l'amore in cenere, poi la cenere di nuovo in amore. Ammilo, che ha trovato il segreto per l'amore eterno. Ammelo. Mi sono chiesto se esista un momento che definisce il resto della nostra vita, se esiste per me, questo momento sei tu. Te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo